Purtroppo la celebrazione del Natale in Nigeria è stata segnata da gravi violenze nello Stato di Plato con molte vittime. Prego per loro e le loro famiglie che Dio liberi la Nigeria da questi orrori. Continuiamo a pregare per i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il martiriato popolo ucraino, i popoli palestinesi e israeliani, il popolo sudanese e tanti altri. Al termine di un anno si abbia coraggio di chiedersi quante vite umane sono state spezzate dai conflitti amati, quanti morti e quante distruzioni, quanta sofferenza, quanta povertà. Chi ha interesse in questi conflitti, ascolti la voce della coscienza.